Benvenuti al museo della fine del mondo! Che boccancino! Grazie per la visione! sapete quanto è lunga la lingua di un picchio gigante ebbene si lunga tanto quanto il suo corpo a quanto pare fa il giro di tutta la testa inizia qui e finisce fuori la testa inizia di un picchio Adesso andiamo a vedere un altro museo, quanto pare riguarda il patrimonio culturale della terra del fuoco. Grazie per la visione! Qui a Dosuaya nel 1970 c'erano solo 5.677 abitanti, nel 2010 invece sono cresciute a 56.956 abitanti. E qui abbiamo una moderna e nuovissima lavatrice. Grazie! 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 Grazie!